Ciliegio, melo, pero e quasi per tutti i frutti, si conserva l'ereditarietà. Però melo, pero e ciliegio succede un'altra cosa, si ritorna a una specie che non è addirittura sempre migliore ma è quasi un selvatico, quindi piccole dimensioni e caratteristiche non tanto eccellenti. Quindi melo, pero, non tanto. Quello che conserva di più, proprio se li vogliamo mettere in lista, che qualcuno mi chiedeva, potrebbe essere il carrubo, il noce, mandorlo, castagno. Queste quattro che mi sono venute in mente, in questo momento. Queste conservano l'ereditarietà, che tra l'altro l'innesto di queste piante è abbastanza complesso, ci vuole un periodo adatto, ci vogliono condizioni favorevoli che solo la pianta e chi le innesta ci si mette a tirare sopra. Insomma, non è semplice innestare il castagno e il noce. Già il castagno, se trovi la settimana, hai una settimana di tempo e lo puoi fare. Il noce, innestarlo, è una delle piante più rognose che esiste. La tecnica è sempre la stessa, il problema è trovare il periodo e la temperatura. Il momento in cui si innesta il noce, la pianta deve essere ferma, non deve essere in vegetazione, non deve essere neanche in tiraggio, cioè non ci deve essere la linfa che sta scorrendo. L'albero quando comincia a vegetare, prima scorre la linfa, qualche giorno prima, poi dopo qualche settimana o dopo un mese escono le foglie. Quindi se tu vai a innestare un mese prima ed è in tiraggio, c'è un afflusso di linfa enorme, come fai il taglio? Comincia a piangere, si dice. Esce sta linfa da tutte le parti che annega la marza, il pezzo che tu vai a mettere lo riempie di linfa, la pressione è tale da farlo annegare e non si ha l'attecchimento. Si deve innestare prima che vada in tiraggio e già lì è complicato, però con delle piccole prove, con dei piccoli tagli puoi vedere se l'albero è in tiro o no. Dopo che l'hai innestato, sempre il noce, che è quello più difficile di tutti che ho trovato finora, ci vuole una temperatura elevata nel punto di innesto. Quindi le zone della fascia degli aranci, la fascia climatica, quella periferica della Puglia lungo il mare, è favorita perché la temperatura già in quel periodo comincia a essere più alta. E in Campania si usa mettere un manicotto, una bottiglia di plastica con dentro del terreno vulcanico, quindi di colore nero, che attira i raggi dal sole e conserva la temperatura. E su dieci innesti, chi è pratico riesce a farne andare bene setto o otto. Quelli che non ho cominciato come me da un po' di tempo, su dieci innesti gli ne vanno bene tre o quattro. E per questo vi dico che è rognoso. In altre condizioni, nell'Appennino dove vivo io, su venti innesti ne va bene uno. Perché le condizioni climatiche non sono favorevoli per l'attecchimento dell'innesto. I grandi vivai non hanno problemi, mettono tutto in serra, le piantine piccole in serra, temperatura, umidità e calore controllato e gli innesti vanno bene tutti quanti. Bisogna tenere caldo il punto di innesto. Il punto di innesto è delicatissimo, è un punto di inoperazione, un intervento chirurgico vero e proprio, va protetto. Quindi lo puoi proteggere dall'umidità, dall'eccessiva, dalla traspirazione, dalla disidratazione, ma poi proteggerlo e tenerlo pure caldo diventa un po' più complesso. Quindi le piante conservano le loro caratteristiche. Un'altra pianta? Sì. Andiamo in diretta? Allora riparto, mi fermo e partiamo. Allora, ripartiamo con le domande che erano venute fuori durante la pausa a proposito della conservabilità genetica di alcune specie. In parole più semplici, alcune specie di alberi da frutto conservano le stesse caratteristiche dei frutti di cui ci nutriamo. Un'altra specie che è venuta fuori, appena illustrata qua in immagine, è il pino domestico. Pino domestico pianta i pinoli, resta e diventa tale quale all'albero madre. Non ci sono tante variazioni. Di pino domestico esistono due varietà. Una è molto nota, quella che ha i pinoli duri che devono essere rotti con uno strumento. E ne esiste anche un'altra varietà, semi mollicci che si schiacciano con le dita delle mani come le arachidi. Hanno lo stesso valore nutritivo, stesse caratteristiche, solo che quella semi mollicci, essendo morbidi, i semi o sono maggiore preda degli uccelli oppure possono essere attaccati dalle muffe perché sono più morbidi. Però è un vantaggio perché si riescono ad aprire con le dita delle mani, come le arachidi, ripeto. L'albero diventa sempre delle stesse dimensioni. È un albero molto grande. Io consiglio di piantarlo a chi ha spazio perché è un albero bello, maestoso, imponente ed ha dei frutti molto buoni. Chi non ha utilizzato i pinoli in pasticceria? Nessuno, voglio dire, penso, non conosce il valore alimentare, nutritivo e organolettico di questo frutto. L'albero però richiede spazio, ma si accontenta di qualsiasi tipo di terreno, dal sabbioso della riva del mare fino a quell'argilloso di 6-700 metri sull'appennino. E non ha bisogno di acqua. Ecco, grande altro nostro vantaggio. Se hai spazio, questo è un albero che almeno l'acqua non te la chiede. Arriva anche a più di 700 metri, arriva pure a potenza che sono 900 metri, però lì l'albero cresce ma in condizioni problematiche perché durante le grosse nevicate, avendo una cioma molto ampia, quindi provoca un accumulo enorme di neve, si spezzano i rami e cadono grosse branche al suolo con tutto quello che ne consegue con le macchine che stanno sotto. Solo per il problema della neve diventa un fattore limitante perché spezzano questi grossi rami e l'albero resta anche un po' tutto scombinato. La cioma non rimane integra come in quel modo. Quindi la neve diventa fattore limitante laddove se ne presenta uno strato, un accumulo sulla superficie, oltre i 10 cm di neve comincia a diventare un problema, altrimenti l'albero crescerebbe ugualmente, così come cresce. Pino domestico è l'unico pino da pinoli dell'area del Mediterraneo, però ne esistono altri pini di altre zone del mondo. Io ho portato una piandina che poi vi mostrerò di pino bungeana. Il pinus bungeana o pino bungeana viene dall'Himalaya, resiste all'arido, tale quale è il pino domestico, ed è di taglia ridotta. Tra l'altro non cresce in forma d'ombrello, ma cresce a forma di piramide, presso a poco come un albero diabete, però più basso e più largo. Fa un pinolo commestibile che è la metà di quello, è più piccolino. E' un po' più piccolino, però è sempre un pinolo utilizzato, dalle popolazioni locali lo utilizzano perché in alcuni punti è quasi una risorsa fondamentale. Ne esistono... come? Ah, beh sì, mi si dice che anche le foglie possono essere utilizzate per farne infusi e quant'altro. E comunque ogni pianta dà tante risorse, non è che l'albero da frutto fa solo il frutto, no. Può utilizzare la corteccia, i semi, le radici addirittura. E ci addendreremo in questo un po' più avanti. L'utilizzazione a 360 gradi delle piante, dimmi. Volevo sapere se c'è un periodo della vita che questo pino dà frutti e se smette a un certo punto di dare frutti. Ok, domanda ampia a 360 gradi. Ha un periodo di inizio di fruttificazione come tutte le specie, e ha un periodo di decadenza della fruttificazione che non è verticale ma è discendente nel tempo. Quest'albero comincia a fruttificare bene intorno al decimo anno, se cresce in condizioni ottimali. Se cresce in condizioni stentate comincia dopo 15. Se cresce in ambienti affollati, pinete, troppo strette, pur dopo 20-25. Condizioni ottimali. Un albero isolato, ai margini di un campo, non dà fastidio a nessuno, né fili dell'Enel ci devono essere sopra, né tubazioni sotto, perché poi rimuovendo le tubazioni o facendo manutenzione ai fili ve lo rovinano, ve lo danneggiano. È resistentissimo al vento quest'albero, ma può cadere se nel tempo vive circa 250-300 anni in natura, se in questi 250-300 anni qualcuno si ricorda di farci passare una bella conduttura vicino alle radici, come fanno in città. Roma è piena di questi alberi, poi gli cadono sulle macchine durante i temporali e dicono che è un albero non idoneo. Forse ci sarebbe da ragionare anche in questo caso e dire che non è idonea la tecnica che viene applicata alla manutenzione delle strade. Se le condutture passano sulle radici, questo produce le radici e loro gliele tranciano con gli scavi. Purtroppo in Italia non si salvano le radici degli alberi, neanche se si passa a 30 cm di distanza. Anzi, con l'escavatore a volte gli si dà pure una botta così, se si sposta un po' più là fa prima. Perché chi fa questi lavori non ha tanta sensibilità. Gli alberi tranciano le radici oggi da questa parte, poi ne passano altre e trancia di qua. Le radici, anche se ricrescono, non hanno l'ancoraggio sufficiente a mantenere un bestione del genere. E quindi la prima ventilata nella direzione opportuna lo butta giù. La produzione quindi aumenta dal decimo-quindicesimo anno e continua bene per circa 100-150 anni. Dopo 150 anni potrebbe diminuire, quindi pigne un po' più piccoli, frutti un po' più radi. Ma ha una vita lunga e una fruttificazione piuttosto abbondante. La raccolta diventa complicata perché sono alberi di grandi dimensioni, ma anche in questo caso c'è qualcuno che la notte non dorme e studia cosa fare, come Gianluca. Hanno trovato una tecnica di innesto per questa pianta. La tecnica esisteva già, hanno visto che innestando questa pianta, con la sua stessa specie, si mette un seme, si lascia crescere. È un selvatico. Anziché lasciarlo crescere, la piantina di 1, 2, 3 anni, giovane, va innestata, tagliata e innestata con un suo stesso ramo. Avendo inserito un ramo su una pianta, la crescita non sarà più d'albero, ma sarà di un ramo. Quindi hai ottenuto dei pini domestici bassi, piccoli, che fruttificano 3 anni dopo l'innesto, come tutti gli alberi da frutta. È una chioma che, mi sembra, arrivi nell'ordine di 5, 6, 7, 8, 10 metri, non 25 come quello lì, o 30. Quindi l'innesto su pino domestico favorisce una crescita ridotta e un anticipo di fruttificazione. Con la stessa varietà, sì. Solo perché viene innestata una pianta, viene stravolta. A me è capitata la stessa cosa con i mandorli. Piantato in mandorlo, con tecniche molto simili a queste impuglie, mettere seme, allevarlo, farlo crescere. Ho aspettato 20 anni per questi mandorli, portavano pochi frutti. Poi ho scoperto che non c'era impollinazione a sufficienza, ma portavano pochi frutti non solo, perché l'impollinazione non era sufficiente, perché l'albero stava ancora crescendo. A 20 anni era una piantina giovanissima, secondo i canoni del mandorlo, perché sarebbe diventata adulta più in là. E allora ho provato l'innesto per caso, ho fatto una sola pianta per prova su quelle 4-5 che avevo, e ho innestato questa pianta tagliando tutti i rami, quindi ho innestato sui rami, rami di dimensioni di questo tipo, mettendo delle marze di una varietà che era autoimpollinante. E poi ho messo un ramo della sua stessa varietà, perché quella varietà lì produceva pochi frutti e non andava bene in fruttificazione, ma era bella, era grossa, la volevo conservare. Beh, sapete cosa è successo? Dopo un anno dall'innesto hanno portato i frutti tutti quanti, quelli della varietà nuova e anche lei stessa, solo perché era stata innestata, tagliata e reinserita. È diventato un ramo, si è cominciato a comportare da ramo, è stata stravolta la fisiologia dell'albero e ha smesso di crescere più di tanto. Adesso porta i frutti. E quindi l'innesto, dicevamo, è una tecnica che viene fatta per anticipare il nostro tempo limitato che spesso abbiamo a disposizione. Un'altra tecnica che utilizziamo noi in olivicoltura, agrumicoltura, in viticoltura, per accelerare la data in produzione dell'albero, è anche quella di intensificare se uno ha la possibilità di piantarne più piante vicino, perché la pianta si regola, più spazio ha, più terreno a disposizione, più cresce e inizierà tardissimo a portare i frutti. Quindi, siccome sia le foglie che i capillari avventizi che stanno sotto, quelli più recettivi, fungono da antenne, quando la pianta vede che ha esplorato già tutto il territorio che ha a disposizione, innesca, favorisce quel discorso di produzione. Per chi non volesse innestarle. Infatti, ti aggiungo subito qualcosa, perché vorrei andare anche un po' più avanti. I frutteti vengono fatti intensivi all'inizio, con più piante possibili, e poi dopo un po' si fa lo sfoltimento, il diradamento, in modo che le piante non devono avere troppo spazio. Questa è una forzatura che la si fa per avere quanto più frutto possibile, quanto prima possibile. Poi, una volta che stanno cominciando a crescere, si taglia un albero sì e uno no. Uno sì e uno no. È drastico anche questo. Però, perché poi quelli che già sono in produzione cresceranno più lentamente, occuperanno lo spazio e andranno a compensare quelli che sono stati eliminati. Però, professor, dobbiamo sempre sapere che le piante innestate, è sfavorevole farlo in condizioni estreme, dove c'è poco approvvigionamento idrico. Perché la pianta che è cresciuta lì, di suo, ha molto più resistenza rispetto agli agenti atmosferici, all'aredità, a tutto quanto. Quindi, poi il fatto di avere un terreno, una situazione sfavorevole, indurrà comunque la pianta a produrre prima. Quindi, valutare sempre bene quando si va a fare un innesto, se è un posto vigoroso che la pianta cresce tantissimo, ma se è un posto difficile, una varietà che non è proprio evocata di quello azzurro, è sconso. Infatti, mi riferivo all'inizio di questo discorso al pero selvatico che riesce a crescere vigoroso anche in condizioni estreme, ma se la condizione deve essere troppo estreme, è naturale che anche il pero selvatico è meglio non innestarlo. C'è una domanda, forse, dietro? A proposito di cosa? Ah, sì. Allora, nei frutteti intensivi, nei frutteti intensivi, mi si chiede di ripetere questo concetto, nei frutteti intensivi si mettono più alberi del necessario. Anziché mettere un albero ogni 4 metri, se ne mettono 2 ogni 2 metri. Anziché 1 ogni 4, ogni 2 metri. Quindi in 4 metri ci sono 2 alberi anziché 1. La superficie che occupa un albero si chiama sesto d'impianto, che è la dimensione, lo spazio che occupa, a destra e a sinistra, avanti e indietro, intorno a sé. Il sesto d'impianto si calcola con una formula facile e facile. Si calcola la grandezza che occuperà l'albero da adulto, facendo, per esempio, se un albero ha i rami da adulto, 2 metri di qua, 2 metri di lì, si fa 2 per 2, 4, e si ottiene la superficie. 4 metri quadrati. Questi 4 metri quadrati li si moltiplica per la superficie che abbiamo a disposizione. Di solito si ragiona sempre su un ettaro. Un ettaro è 10.000 metri quadrati, quindi facciamo in metri quadrati, 4, 10.000 metri quadrati, diviso 4, che è quello di un albero, e sappiamo quante albere ci vanno in quell'ettaro. E se lo mettiamo a 4 metri quadrati di distanza l'uno dall'altro, sappiamo un numero X. Se vogliamo più piante facciamo 10.000 diviso 2 metri quadrati e avremo un numero molto maggiore di piante. Però le piante quando cominciano a crescere poi stanno strette. Questo lo si fa, questo sistema lo si attua, per avere una produzione elevata all'inizio. Più piante, più frutti. Poi le piante cominciano a crescere, diventano strette, si vanno a sostituire, si vanno a tagliare una sì e una no in tutto il filare e in tutte le linee. Altre domande? Sì, c'è un'altra domanda. Dietro c'è una domanda. Volevo sapere, qual è la distanza ottimale tra due pini? Ah sì, il pino domestico come distanza ottimale è quella... Ad esempio, alberi già grandi, di 20 anni, tipo. Ok, continua a crescere a 20 anni. A 20 anni è un albero grande ma giovanissimo, perché questa pianta raggiunge lo stadio adulto intorno ai 70 anni. Quindi è una pianta giovanissima, sta crescendo. Si fa così, se tu vuoi fare un'osservazione in natura, se ti capiti di trovare un grosso albero come questo, preoccupate se puoi misurare. Io ti dirò già i parametri, ma vi dico il sistema che potete applicare a qualsiasi pianta. Trovi un albero grande, lo vedi, lo valuti, lo guardi e misuri dalla base del tronco qua, fin dove arriva la perpendicolare della cioma. Un albero adulto come questo dovrebbe avere una cioma lontana, che arriva lontano dal tronco, circa 10-15 metri. Allora, fai 10-15 metri di qua e 10-15 metri tutto intorno. L'altro albero anche fa la stessa cosa. Quindi devi fare 10 più 10, almeno, minimo, 10 metri da una parte e 10 all'altra. Ogni albero andrebbe lasciato a 20 metri di distanza. Però, se è una pineta e fitta e la vuoi sfoltire, non puoi fare questo velocemente, perché se lasci gli alberi a 20 metri, inaridisci il suolo, disidrati tutto e il vento ti spezza pure quelli che ci sono perché sono cresciuti in condizioni strette. Va sfoltito lentamente. Se gli alberi sono a 2 metri di distanza, prima li lasci a 4, poi dopo 7-8-10 anni altri 4 metri e lo porti a 10-12-15 metri piano piano. In 3-4 interventi successivi. Più interventi si fanno e meglio è per loro. Perché intanto la cioma si allarga, copre il suolo, mantiene l'umidità, il vento non si infila sotto e non ti spezza gli alberi sottili che rimangono. Il diradamento è complesso, specialmente se le piante sono molto sottili, sono molto esili e hanno poca cioma. Quando sono in condizione di affollamento le piante tendono a scappare verso l'alto, la cioma non si robustisce, il tronco rimane sottile. Se si allargono, se si sfoltiscono, rischiano di avere grossi problemi. Quindi dicevamo, bisogna guardare sempre l'albero adulto. Quando piantate un albero, una piantina giovane, piccola, grande, che sia nana o meno, chiedetevi o chiedete, sempre se vi trovate in fronte a una persona seria e qualificata, quant'è la dimensione da adulto di quell'albero. E se non siete convinti, andate a fare una ricerca su internet o da altre persone che hanno più esperienza di voi. Considerate l'altezza e la grandezza adulta e poi andate a piantarla. Gli alberi ornamentali in Italia hanno una storia a inizio lieto e a fine tragica. Cioè, si piantano degli alberi ornamentali vicino alle case. Dopo vent'anni, un albero ornamentale che può essere un pino domestico, un cetro dell'Himalaya, un abete o qualsiasi altro albero, anche un noce, dopo vent'anni, quando l'albero è pieno della giovinezza, sta crescendo, ci si rende conto che gli aghi vanno nelle grondaie, il vicino si lamenta, i fili, la luce, tutti quanti vanno, i pavimenti si alzeranno irrimediabilmente, anzi, in alcuni casi se vicino al cancello alza pure il cancello e non si chiude più bene il cancello. Usciranno tanti di quei problemi che alla fine si opta per una sola soluzione, tagliare l'albero. Tagliare l'albero è un costo, oltre che per me anche una grosso dispiacere. Se l'albero fosse mio, a me dispiacerebbe. E il costo poi di abbatterlo comunque non è una passeggiata, perché se l'albero è grosso ci vuole una ditta specializzata con la piattaforma, insomma un casino di lavoro. Qualcuno ci è passato e sa bene di cosa sto parlando. Allora va considerato l'albero, quando diventa grande cosa farà? Vogliamo un pino, vogliamo un abete, scegliamo un pino, un abete innestato per varietà, con varietà, nane. Esistono abeti nani da 30 centimetri d'altezza fino a 40 metri. È sempre un abete, è sempre bellissimo, però ci possiamo fare un bonsai a 30 centimetri, ma ci sono anche da 2 metri, da 5 metri, da 10 metri. Scegliamo in base al nostro spazio. Come si fa? Si sceglie in base alla dimensione dell'altezza dell'albero da adulto deve essere uguale alla stessa distanza dall'abitazione, dai fabbricati, dai vicini e da tutte le problematiche. Perché si deve considerare che se l'albero da adulto dovesse cadere ed è alto 20 metri, nella proiezione della caduta di 20 metri non ci deve essere niente di grave tutto intorno, capannoni, strade e quant'altro. questo è il ragionamento da fare. O piante innestate o lontano, così evitiamo che fra 20 anni i nostri figli dovranno tagliare ciò che noi abbiamo piantato e curato con tanto amore. E in Italia è piena di questa soluzione perché è stato in Italia e vengono piantati gli alberi secondo le mode come i vestiti. Arriva la mode di un certo colore e quell'anno va a quel colore. È arrivata la mode tanti anni fa del cedro dell'Himalaya ed è stato piantato all'aria infuso dalla riva del mare nelle piazzole dell'autostrada nell'autogrill fino in cima alle montagne. È una pianta plastica è bellissima ma in certi ambienti ha causato un sacco di problemi perché diventa enorme e quindi poi sembra il solito abbattimento con tutte le conseguenze. Prima ti rompi il pavimento ti smuove il cancello ti fa la grondaia se ce l'hai piena di foglie quindi vai a cambiare la grondaia aggiusti il cancello aggiusti il pavimento e tagli pure l'albero. È una cosa da matti proprio da folli ma perché fare questo? è perverso bastava piantare un cedro dell'Himalaya pendulo quei cedri con i rami rivolti verso il basso che sono ornamentali sono bellissimi oppure una forma piramidale manana e te la tenevi senza tutte queste conseguenze. Andiamo ancora. Piante rampicanti che dicevamo ieri la vite che può essere allevata in questo modo questa pianta l'ho scelta non perché la vite non è una pianta conosciuta ma per la bellezza di questa pianta allevata a meno di un metro d'altezza hai poco spazio non hai supporto non puoi farla andare da nessuna parte come può essere un'uva nera da vino come questa si può fare lo stesso anche con delle uve da tavola ci sono solo alcune varietà di uva che hanno bisogno di rami lunghi ma anche in questo caso si può usare un portinnesto debole c'è un selvatico sotto che cresca poco e quindi la vigoria sopra sarà ridotta e fai una piantina piccola questa è una vite allevata sostenuta vicino a un paletto ma allevata come se fosse un arbusto pensate un po' un rampicante che non è un rampicante è diventato un arbusto è la plasticità dell'albero che ci permette di fare questa scelta è la plasticità di quella pianta si è contenta anche di essere tenuta bassa addirittura a pandelleria viene allevata a livello del suolo come noi alleviamo le zucche dentro delle conche di terreno con delle pietre intorno dei muretti per proteggerla dal vento e la salsedine del mare che la brucerebbe inesorabilmente quindi la vite è allevata come un'ortiva fino a dei tendoni enormi e rampicanti flassiflora qui c'è la passiflora cerulea si chiama cerulea per questo colore ceruleo dei fiori che è molto bello e ha una struttura tutta particolare c'è un'enorme bibliografia insomma su questa struttura fatta come i segni della passione di Cristo per cui passiflora da questo ha dato origine il nome e oltre per questi fiori belli questo frutto che è edule ma non ripeto la cerulea non è di grande qualità ne mangi veramente giusto un assaggio ma c'è la passiflora edulis che è un rampicante come questo che riveste per golati e vi fa veramente un ambiente da foresta amazzonica perché cresce velocemente e produce i frutti migliori di qualità più succulenta rovo senza spine ne parlavamo ieri basta una aiuola una piccola aiuola 20 centimetri contro una parete di un muro di un capannone sotto una tettoia purché ci sia il sole ha bisogno di sole come le rose non può essere messo all'ombra altrimenti la cocciniglia lo aggredisce senza pietà e ci sono tante varietà alcune più buone per il sapore dei frutti alcune più belle per i fiori addirittura ce ne sono alcune varietà solo ornamentali che fanno solo fiori grandi o foglie tutte screziate o tutte lanciolate ce n'è una addirittura che ha le foglie come prezzemolo però è un rovo solo per quello viene coltivato quindi rovo senza spine pianta rusticissima per ambienti aridi richiede un po' di cure un po' di manutenzione le erbacce non devono prevaricare non ha le spine quindi non si difende è una pianta molto selezionata molto delicata rispetto a quello nostro tradizionale un po' inferiore sì però quello ha il di per contro il sapore eccellente sappiamo quello che è ma ha il di per contro che tende ad essere invadente ed è difficile da estirpare invece questo qua non è invadente addirittura per riprodurlo lo devi anche invogliare perché se non metti i rami piegati nel terreno da solo non riesci a radicare eh sì questo è un ibrido sì è un ibrido naturale ottenuto da una lunga selezione di incroci sempre da quello selvatico e ottenendo questa pianta questa varietà ne parleremo anche più avanti a proposito degli ibridi e come ci arriviamo ad ottenere queste piante altro piccolo esempio del rovo senza spine guardate su una iuola limitatissima tra l'altro piantine di questa grandezza sono in piena produzione e una piccola striscia come questa qui vi può dare tanto di quella frutta da farne marmellate tutto l'anno acqua e compost l'altra nostra caratteristica da considerare di cui ne abbiamo già parlato abbondantemente se ci sono domande curiosità mi soffermo altrimenti cerco di andare avanti questi sono componenti che noi dobbiamo considerare perché come diceva Gianluco le andiamo a immettere nel nostro giardino foresta e lui nel suo aranceto quante più ne immetti tanto meglio è no non è sempre così troppa acqua significa farla negare le piante vanno immesse con attenzione dopo un'asservazione dopo un'attenta valutazione di quello che si sta facendo immettere acqua di notte costa di meno perché ne spendi di meno come evapotraspirazione non il prezzo che si paga ma ne perdi di meno come evapotraspirazione e soprattutto se ne avvantaggia la pianta perché la può assorbire senza disperderla e soprattutto senza causare scottature innaffiare d'estate un momento c'ho fretta do un secchio d'acqua e me ne vado significa che la fai passare da 40 gradi a quei 5, 6, 10 gradi dell'acqua è uno shock termico e la pianta può saltare piantine da vivaio e qua era anche un altro argomento che avevamo aperto cosa si va e cosa si trova in vivaio eccole qua queste sono le piantine moderne quelle selezionate dove alcune varietà sono protette da marchio cioè sono arrivate a diventare i padroni di quella varietà io per questo ieri esageravo ma dicevo che quando saranno diventati i padroni anche dell'aria qua non si può neanche respirare più e allora questa strategia qua delle nuove piantine da vivaio era stata approfondita bene ma la ribadisco per chi non c'era nel corso ne uno dei corsi precedenti quelli del seed savers cioè salvare i semi quindi andare a vedere i nonni qualche zia qualche anziano che aveva queste vecchie varietà e a proposito di questo avevo portato questa antica varietà di mais che oggi ve la mostro poi per fare prima la lascio le lascerò ne ho diverse spighe le lascio ad Angelo che domani dovrebbe venire o a Patrizia scusami purtroppo ho i nomi delle piante in testa e anche il mio computer è quello che è quindi questo è un mais di un'antica varietà ha una colorazione insolita particolare è grigia bluastra sembra geneticamente modificato ma non lo è è ottenuto da generazioni successive e allevamenti successive di piante con questa caratteristica non conosco le origini ma so che in Basilicata esisteva 30 anni fa 30-40 anni fa esisteva questa è la zona di Pollino quindi Francavilla e dintorni in quei paesini là esisteva Angelo mi pare che lo conosce perché lui non difficilmente è sfuggito qualcosa e poi è stato perso perché questo è un mais usato per il popcorn e il popcorn si faceva prima a comprare nelle bustine sembra la solida storia compri una bustina quanto ti serve hai fatto questo a chi se ne importa di coltivarlo io consiglio di coltivarlo perché è una piantina più piccola il mais normale è una pianta sapete due metri e anche oltre questo qui arriva a un metro e cinquanta massimo anche un metro di altezza e in quel metro di altezza richiede meno acqua quello che noi ci serve meno acqua e ti produce non una come quello tradizionale ma due, tre, quattro spighe due, tre, quattro spighe due, tre, quattro spighe e questi chicchi possono essere usati io ho una bambina a cui piacciono moltissimo i popcorn e quindi sono stato invogliato a coltivarlo perché è facile facile da coltivare naturalmente voi qua in Puglia dovete anticipare la semina rispetto a altre zone d'Italia come da me e poi se gli date un minimo di aiuto le vostre spighe saranno un po' più grandi celle altrimenti possono essere un po' più piccole come questa altrimenti possono essere un po' più brutte come questa che l'apice è addirittura rovinato quando andate a raccogliere i semi da questa spiga e ne volete conservare una parte i semi migliori consigliabili sono quelli al centro quindi nella posizione centrale ne prendete una striscia che gira tutto intorno alla spiga gli apici e la parte qua del pedungolo è consigliabile scartarli perché spesso all'apice ci sono attacchi di parassiti inzetti e quant'altro infatti qua poi ve le farò vedere da vicino quelle degli apici molto spesso sono rovinate e alla base sono dei chicchi un po' troppo grossi un po' troppo strani è consigliabile prendere la parte centrale dove c'è una sorta di equilibrio però naturalmente da queste tre spighe si sceglie la più bella quella che ha meno difetti e lì ritorna il nostro discorso che abbiamo fatto prima con i semi di noce di castagno e di mandorlo la spiga più bella più grande più omogenea la mettiamo da parte e ne prendiamo una porzione per seminarli gli altri tutti a fare pop corn oltre a pop corn si può mangiare tenero come il mais dolce quando è tenero e si può bollire o arrostire e lo svantaggio è solo che una spiga piccola e per mangiarne una di quelle grandi devi mangiarne cinque di queste pop corn mais da pop corn abbiamo perso il nome non sappiamo più come si chiama questa varietà lo chiamiamo solo mais da pop corn in dialetto panelle quelle famose panelle di mazza e panelle fanno i figli e belle la polenta non l'ho provata non l'ho provata ma credo che vada bene perché comunque contiene amido è un mais magari avrà un sapore particolare o magari l'unico difetto può essere che essendo piccoli ti producono poca quantità di farina e molta crusca senza altro è sempre un mais ecco perché dico la nostra certo è un mais tutti gli effetti non è geneticamente modificato la cosa bella che è ah scusami va bene ho lasciato quelli ne utilizzo solo uno allora questo mais dicevo non è geneticamente modificato al di là del suo aspetto così insolito cosa che invece è ben diversa dal mais geneticamente modificato che ha un colore perfettamente uguale a qualsiasi altro tipo di mais antico e di colore giallo o arancione allora le selezioni delle piante visto che le abbiamo tirate in mezzo e anche a proposito di piantine cosa succede? succede che in tutta l'epoca dell'agricoltura le piante sono state selezionate con questo sistema che vi ho appena accennato i semi più belli i frutti più grossi una parte si riseminano un'altra parte si mangiano la parte da seminare da ripiantare è piccola è una piccola frazione bastano pochi semi ne rifai di nuovo tanti e la parte invece da mangiare è a nostra disposizione però vanno scelti i semi più belli migliori le spighe più grosse facendo questo ragionamento siamo passati dal teosinte che è l'antenato del mais che aveva 5 chicchi più o meno da 5 chicchi a una pannocchia enorme grande 30 centimetri che ne ha qualche centinaio di chicchi la pianta di teosinte è una graminacea selvatica ancora esistente in centro america che cresce a forma di arbusto addirittura è un cespuglio alto più o meno un metro e mezzo così con tanti fusti come una specie di piccola canna e fa queste specie di piccole pannocchie dove i chicchi sono impilati una sopra l'altro come un po' la spiga del grano infatti è una spiga e i chicchi sono infilati uno sopra l'altro ma sono pochi 3, 4, 5, 6 e i chicchi non hanno neanche la forma del mais perché sono messi in posizione diversa quindi assumono una forma più rotondeggiante beh i maia in tanti anni e tanta pazienza hanno selezionato quel teosinte selvatico mettendo che cosa? la pianta la spiga che aveva un chicco in più prima quello con 6 e poi quello con 7 e poi 8 e poi 9 e poi 10 poi se la natura era generosa ti faceva già una spighetta con 20 chicchi e piantavi i chicchi di quella che ne ha fatti 20 non bisogna essere avidi a dire ah beh le 20 chicchi me li mangio tutti quanti no una porzione va messa da parte ti fai i tuoi semi a un costo zero e visto che i marchi delle piante adesso sono protetti il costo zero veramente vi assicuro può essere molto molto utile partendo da varietà selvatiche allora vi dicevo prendere la pianta con i chicchi in più e piantare quelli pianta oggi pianta domani hai avuto tutta la biodiversità che ne è venuta fuori di mais ne esistono centinaia di varietà Angelo vi farà vedere dei semi sicuramente alla fine del corso dove ci sono addirittura dei mais che crescono in ambienti molto più aridi della Puglia però tutte queste cose non le dovremmo dire in giro perché a qualcuno gli andiamo a rompere le uova nel paniere poi cosa vendono loro come sementi se ce le produciamo noi più varietà eccola qua il nocciolo della nostra questione più varietà più biodiversità e la cosa può essere anche letta all'incontrario più biodiversità più varietà vanno a braccetto un orto ricco con tante specie con tanti con tanti colori con tante piante dà sicuramente maggiore ricchezza per noi stessi e per quant'altro compost il compost è quello di cui abbiamo anche largamente parlato lì c'è l'esempio di una compostiera fatta a costo zero quelle sono delle pedane le pedane che buttano da tutte le parti che scartano perché magari saranno rotte o parzialmente rovinate messe quattro pedane con dei paletti di ferro qua sui bordi se riesco a trovare eccolo qua allora sui bordi ci sono dei paletti di ferro che sono nient'altro che degli spezzoni di ferro delle costruzioni che anche quelli possono essere riutilizzati come scarti non c'è bisogno di andare a comprare il ferro zingato di prima qualità quattro paletti ti bloccano le pedane infilandoli nel terreno quando è morbido e blocchi con le pedane il tuo compost che l'addendo produci è stata aperta per far vedere com'è ma di soldo la situazione è chiusa le butti dentro e devi rimescolare rimescolare per evitare fermentazione e sviluppo di roba puzzolente di ogni tipo e ha bisogno di un po' di spazio perché comunque un po' di odore verrà fuori e se ci sono vicini con il naso troppo delicato insomma potrebbero lamentarsi però rimescolando arieggiando eviti la putrefazione che tra l'altro non deve avvenire nella compostiera lo strato inferiore della compostiera è quello che già sta diventando humus qua sotto cosa si fa? si sposta la parte la porzione superiore lì in quel caso sono foglie e altri detriti i vegetali si spostano si prende quello che sta sotto e si rimescola quello che sta sopra con i resti di quello che sta sotto per accelerare cosa si fa? si possono mettere i nostri cari amici lombrichi si prende una porzione di terriccio e si sparpaglia là sopra e in questo terriccio possibilmente ci si mette il terriccio già con i lombrichi non si aspetta che vanno da sotto a pascolare là dentro ma lì si possono inserire con una porzione di terriccio se quelle foglie vengono coperte da un po' di terriccio e con dei lombrichi altrimenti le foglie in superficie si asciugano sotto rimangono umide e il processo va più lento però è un bel sistema per produrre da sé del compost la dimensione è variabile a seconda dei gusti e piacimenti di ognuno però se è grossa la compostiera poi ci vuole più lavoro microfono dove? dietro per favore o dove c'è bisogno? cominciamo da qui chiedo esiste il compost a caldo e a freddo? il compost a caldo e a freddo non mi sono mai imbattuto di questa problematica può darsi che sfugge sfugge a me però può darsi che sfugge ma mi sembra solo un po' strano il fatto che ah ecco grazie Patrizia sì ci sarà una fase calda e una fredda perché il compost tende a fermentare quando fermenta e produce calore poi naturalmente questa fermentazione cessa e se potrebbe avere una fase fredda in questo senso sì perché altrimenti ah ok l'impianto eh sì questo è quello domestico sì l'impianto di compostaggio l'impianto di compostaggio industriale sicuramente avrà dei valori di temperature che verranno controllati non si aspetta mica i lombrichi e che tipo di lombrichi da utilizzare? come? quali sono i i lombrichi da utilizzare il migliore mi dicevano degli esperti che stanno tra noi che è un lombrico che si chiama Esenia fetida Andrei è un lombrico di piccole dimensioni di colore rossiccio andando a scavare nei nostri terreni nel momento in cui c'è abbastanza umidità lo si incontra facilmente è diverso dall'ombricus terrestris quello grande lungo che arriva anche 50-60 cm quando lo si lascia estendere perché quello lì è un animale un po' più grosso e ha bisogno di altre sostanze già parzialmente decomposte invece questa Isenia fetida va ad attaccare la nostra compostiera al primo livello quando le piante non sono già parzialmente decomposte ok andiamo avanti eccoli qua scusami c'è un'altra sì dimmi no volevo chiedersi è vero avevo sentito dire che per usare i lombrichi nella compostiera molti rifiuti da cucina non si possono usare tipo rifiuti animali cipolle agli sapevo aspetta arance agrumi allora arance agrumi o cipolle quant'altro in grande quantitativo hanno gli aranci oli essenziali che vanno forse a bloccare addirittura il ciclo certamente la nostra compostiera migliore è giusto quello che dici la nostra compostiera migliore va fatta con rifiuti domestici eterogenei diversi se vogliamo fare composto solo con le bucce d'arancia diventa un problema è un complesso perché la concentrazione di una sola sostanza e farla attaccare dai microorganismi diventa più faticoso ci vorrebbero dei microorganismi o dei lombrichi specifici per quella sostanza per quanto riguardano i resti animali quindi ossa parti di 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 quel po' di carne quella carne che si usa e quant'altro il problema può essere dovuto allo spessore alla durezza delle ossa una costata di vitello per diventare compost anche là dentro anche in condizioni ottimali ci mette anni anni e anni e anni e allora se tu prendi il tuo compost e poi lo vai a portare nel prato fai una sparpagliata di costalate di vitello eh sì sì è quello il problema è lo spessore ma se usi delle lische di pesce o crostacei in quantitativi normali eh il compostaggio avviene velocemente perché la lische di pesce eh viene decomposta però attenzione perché se non è decomposta poi diventa una temibile spina che infili nel terreno e la trovi tra le mani quando vai a prenderlo anche con i guanti quindi la lische di pesce può essere un'arma a doppio taglio perché può essere una spina ma eh il problema principale è lo spessore di questo materiale che si va a inserire è come se là dentro inserissimo dei tronchetti di albero e allora entrano in giochi i trituratori ce l'ho più avanti ah il lumbricus terrestris potrebbe essere indicativamente quel disegno sopra e invece la specie che diceva il nostro amico è quello è molto simile a quello di sotto di colore più rossiccio andiamo avanti stallatico letame altro componente importante che può essere tenuto in considerazione se si hanno degli animali se non si hanno gli animali questo diventa un costo tranne in poche zone dove viene regalato per l'Italia il letame non deve essere mai utilizzato fresco io lo utilizzo dopo due tre anni che è diventato quasi terriccio perché do poca spinta altrimenti questo diventa una droga è un concime naturale ma è una droga naturale non è cocaina ma diciamo è marijuana per parlare in termini di droghe non è stato raffinato dall'industria chimica ma comunque quando è fresco da uno sprint troppo forte lo sprint troppo forte ad alcune piante può essere letale il letame non va utilizzato sotto le drupace le drupace sono frutti pianti che producono frutti a drupa le riconosciamo dal fatto che quando si ammalano cacciano sul tronco una gomma che non è appiccicosa come quelle delle conifre come i pini le nostre drupace che non hanno bisogno di letame sono ciliegio mandorlo pesco susino albicocco e prugne queste sono le nostre drupace che non hanno bisogno di letame troppo acido urico troppo azoto troppe sostanze e le possono far morire le invecchiano precocemente anche se all'inizio sembra che partono le stiamo soltanto gasando vengono dopate e poi col doping si sa quello che succede altre piante che non hanno bisogno di letame di nessun tipo sono le conifere pini abetici pressi e quant'altro un secchio di letame fresco sotto una giovane piante di pino la uccide in 15 giorni appena che c'è il tempo di entrare nel terreno appena che c'è una pioggia non è più un concime non è più letame è un veleno e la concentrazione ah un altro prodotto che non ho messo in foto ma ne voglio parlare perché da qualche parte viene fuori la cenere del camino la cenere del camino è ricca di potassio i nostri famosi concimi che andiamo a comprare chi li deve utilizzare purtroppo sono azoto fosforo e potassio azoto fosforo e potassio sono i tre elementi principali che nel terreno ci sono ma le piante faticano ad andarseli a cercare allora si compra un sacchetto di concime con tre componenti e si somministra però l'azoto deve essere dato quando la pianta va in vegetazione se no non lo assorbe e viene solo dilavato e l'abbiamo perso i soldi e il tempo fosforo e potassio invece sono concime a lenta cessione si possono dare in un periodo lontano dalla vegetazione per esempio in autunno e la pianta lo comincerà ad assorbire dalla primavera e nella fase vegetativa la cenere è ricca di potassio e da me visto che usano i caminetti io per esempio ho una stufa pellet che consuma 20 volte in meno di un camino e riscalda 20 volte in più ottengo un quantitativo anche limitato di cenere o lo metto nella compostiera quindi arricchisco la compostiera oppure ne basta una manciata sparpagliata sotto la chioma per ogni albero da frutta una manciata perché un secchio di cenere diventa la stessa storia dell'etame o di qualsiasi altro veleno la pianta la uccide la cenere è così caustica che la pianta la brucia la scotta e gli fa seccare tutta la corteccia intorno quindi qualsiasi pianta e sottolineo pianta bruciata non usiamo il fuoco chi ce l'ha o la stufa o quant'altro come un inceneritore domestico perché se nel camino si ha e purtroppo esiste la pessima abitudine di buttarci la roba di plastica quella è cenere alla diossina non conviene più utilizzarla oltre che la diossina la hai già respirata in parte un'altra buona metà l'ha inventata in circolo un'altra buona porzione è rimasta nella cenere con la diossina e tutte le altre schifezze presenti quindi la cenere deve essere cenere di legna anche bruciare riviste giornali patinati sono ricchi di inchiostre di sostanze non tanto o per niente utili alle piante sì troppo basico e composto sotto le piante va messo con cautela una manciata sotto una giovane pianta sotto un grosso ulivo come questi qua se ne può mettere anche un secchio ma non va ribaltato e scaricato a fianco al tronco ma va sparpagliato sotto la chioma ti posso dare il microfono perché non ti sentiamo dimmi mi chiedevo solo sull'acidità del terreno siccome se il terreno ha un pH già basico gli metti la cenere diventa forse troppo basico si può comprare il gesso agricolo per riacidificare certo certo è un problema infatti la cenere dà basicità e i nostri terreni sono già tra neutro e basico raramente sono leggermente acidi quindi la cenere vai a fare ancora il terreno più basico non va bene sotto i pomodori loro volevano già un po' più di acidità in più ma se ne usi qualche cucchiaiata per ogni pianta di pomodoro in teoria e credo anche in pratica dovrebbe dare dei frutti di sapore migliore perché il potassio contenuto nella cenere dà migliore sapore migliore sapore dei frutti patate e legumi ah sì 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 anche quello può essere può essere utilizzato andiamo avanti il microfono avanti per favore potete fare con il microfono così sentiamo tutti dimmi dimmi meglio di no meglio di no ok ripeto ho detto il letame anche stagionato non va sotto quegli albi da frutta che hai menzionato meglio di no meglio di no non è utilizzato il letame piuttosto fresco semistagionato o stagionato lo gradisce bene l'ulivo e la vite l'ulivo e la vite il fico no neanche ne ha bisogno in frutticoltura a volte si evitano queste sostanze perché già a priori non le si danno perché non si possono misurare i quantitativi di elementi che sono presenti il concimo minerale di origine minerale o chimica ha i quantitativi di nutrienti pesati è un prodotto chimico come la medicina sa i quantitativi per chilogrammo e quindi da distribuire per ettaro il letame è variabile può essere molto diverso un letame dall'altro anche dello stesso tipo di animale a secondi periodi dell'anno a secondi se è più umido o meno umido l'alimentazione degli animali stesso quindi c'è da fare attenzione perché è un prodotto per l'orto noi lo utilizziamo quando è ben maturo per dare lo sprint sempre per il solito fatto che l'orto viene fatto in condizione di aratura quindi stravolgimento del suolo per eliminare l'erbacea all'inizio perché il famoso equilibrio di cui parlavamo è difficile da raggiungere e per velocizzare i nostri tempi perché neanch'io posso avere a disposizione tanto tempo da curare le piante con un sistema ancora più naturale mettiamo interriamo una porzione di letame che può essere una manciata per ogni piantina di pomodoro e non si usa nessun concimo da uno sprint alla piantina per crescere veloce anche in caso di coltivazioni di pomodoro su arido dove il pomodoro viene piantato viene innaffiato all'irrigazione con una minima irrigazione per l'attecchimento l'etame è stato interrato alla base e poi dopo una o due al massimo irrigazioni fatte veramente centellinate con il secchio con una bottiglia con una pompa dopo l'irrigazione si ricopre la parte bagnata con terreno asciutto questa è una tecnica che probabilmente la ritroveremo più avanti anche Angelo ve ne parlerà perché l'acqua che si è data si conserva nel suolo e l'etame che essendo soffice e poroso contribuisce a mantenere ancora di più l'umidità potrei sostituire l'etame con il compost ma o di meno compost o più l'etame e quindi usidilizza l'etame così la piantina cresce e va in vegetazione e fruttifica senza innaffiarla più però previo una ratura profonda su terreno argilloso perché terreno argilloso si deve impregnare di acqua in autunno deve restare fresco morbido soffice e poi si può fare una cosa del genere forse l'hai appena detto mi sono distratta l'etame stagionato all'ulivo e alla vite va bene quando? andrebbe somministrato si può somministrare in autunno così durante l'inverno con quelle poche piogge che ci sono si ha la possibilità di farlo permeare al di sotto oppure per fare prima si andrebbe somministrato ma interrato però attenzione se si va a interrare poi diventa un problema perché si rompono in capillare la pianta quindi noi e io dove agisco consiglio distribuirlo sulla superficie del terreno in autunno e lasciar perdere tutto meno lavoro meno fatica e quel poco che la pianta assorbe riesce comunque a prenderlo senza troppi disturbi eh magari dopo la raccolta scusami eh beh sì se la raccolta è in novembre sì e siamo in inverno sì sì va bene e infatti lasciato all'aria secco io dicevo avevo detto tra le righe quel poco che la pianta riesce ad assorbire è vero si asciuga una grande porzione e quel poco che riesce ad assorbire è solo quel poco che si bagna e rimane giù però fa un'altra funzione fa da compostaggio sul suolo cresceranno per tante piante erbacee che con lo sfalcio e controllandole con lo sfalcio arricchiranno velocemente lo strato lo strato erbacee quindi l'aiuto l'arricchimento alla pianta avviene dopo un po' di tempo anche dopo un anno dopo che si è fatto il tappeto erboso partiamo da un liveto bello pulito come spesso avviene con il suolo sterilizzato anziché andare ad arare e rompere pure i capillari che sono cresciuti nell'ultimo periodo si può mettere il compost o il letame aspettare che cresca l'erba e poi sfalciare questo per passare la conduzione a prato se la conduzione continua ad essere con la ratura è normale va messo l'etame e va subito interrato se no si perde microfono dimmi quando quando si pianta un albero la pratica di fare una fossa molto molto grande è mettere in questa fossa tanta sostanza organica tipo paglia foglie legnetti insomma è buona da una parte magari perché può ottenere l'acqua composta ma ci sono molte controindicazioni per l'umidità funghi come ci si può regolare mi stai chiedendo perché magari può aiutare l'albero addirittura per il primo uno o due anni per l'acqua allora lo sprint di partenza per la pianta è una situazione importante va considerata attentamente sempre per le nostre piante che arrivano da vivaio condizioni da eccessive cure al vivaio a cure zero o poche nel terreno la pianta può seccare allora aiutare la pianta con il compost sotto con qualcosa del genere va bene la nostra accortezza quale può essere può essere quella di utilizzare un compost che non sia proveniente dallo stesso tipo di pianta per esempio mettiamo susino nel compost non ci devono essere frutti di susino marcio o rami di susino triturati possibilmente quindi cambiando specie cambiando varietà non andiamo a mettergli la sotto una bomba a reologeria io parlavo cioè a parte il compost già quindi compostato proprio foglie foglie o paglia materiale foglie e paglia viene usato spesso nei terreni molto aridi per aumentare la porosità e la possibilità di trattenere l'acqua sì va bene è importante utilizzare e interrare questo materiale perché vi ripeto la condizione da cui passa la pianta dal vivaio al terreno è brusca e traumatica e dare una spinta in più attraverso queste pratiche va bene va bene non è assolutamente da trascurare anzi va incrementata va valutata va utilizzata questa pratica perché altrimenti la nostra pianta rischia di avere molti problemi che poi quei problemi lì se non li vuoi recuperare con il materiale interrato li devi recuperare con l'irrigazione e dai un po' di acqua in più ma l'acqua costa come tempo e come energie e quant'altro allora dimmi come come irrigazione sarebbe quindi anche sempre nello stesso spirito lasciare che so un pezzo di tubo una bottiglia perfetto che va in profondità in modo che le radici si sviluppino più in profondità e non in superficie certo con chi ho parlato prima nei giorni precedenti avevo dato questo consiglio l'ho messa questa foto da far vedere purtroppo non esiste non ho una foto già del sistema fotografato già così com'è ma io l'ho chiamata irrigazione verticale perché dato che l'irrigazione e ne parleremo ci sono delle immagini specifiche l'irrigazione dato che è in orizzontale a sperdere acqua sul suolo al massimo può essere sub irrigazione a sperdendo acqua nel suolo ma con delle tubazioni interrate come si fa con le fragole sotto le manichette si mette un film plastico o meglio si fa un cumulo di terreno si mettono le manichette si ricoprono anche queste poi si mette un film plastico lo si stende con una macchina il tutto con una macchina dietro un trattore e poi si piantano le fragole ci vuole l'acqua a pressione che arriva là sotto dilata la manichetta ed esce lungo tutto il filare irriga le fragole da sotto senza aspersione senza problemi la tecnica va bene è ottima ma per gli alberi diventa complicato perché l'albero ha una radice che deve andare in profondità allora terreni molto aridi molto asciutti sulle rocce o suoli vulcanici esiste un sistema già attuato da persone come il mio suocero che ha dei terreni intorno al Vesuvio quindi la Pillo è terreno ancora più arido e ancora più asciutto dei vostri terreni argillosi praticamente è sabbia asciutta è un terreno che quando è asciutto non ci si può camminare perché si affonda sembra che sto dicendo cose all'incontrario ma ha fatto delle terribili esperienze ce l'ho fatta affondare col camion una volta e allora quando è asciutto si affonda quando è bagnato appena piovuto si cammina bene non si affonda tutti i contrari dell'argilla e dei terreni argillosi lì cosa fanno vicino alla piantina innanzitutto la mettono più profonda la piantina e anche i semi più profondi di quella indicazione che avevo dato io in generale le piantine vengono messe addirittura a 50 cm di profondità dal colletto il colletto sarebbe la parte dove cominciano le radici o dove comincia il fusto a seconda come si guarda la pianta quindi se questa è una pianta facciamo finta che queste sono le radici il colletto è qua il colletto normalmente deve stare a 4 dita dalla superficie del terreno e si dice che in terreni argillosi le radici devono sentire le campane quindi molto vicine in superficie in terreni molto aridi come quelli vulcanici il colletto viene messo a 50 cm di profondità e io sono rimasto esterrefatto ho detto mo sta pianta soffoca e deve morire non muoiono anche albicocche piante soggette ad asfissia che possono essere facilmente affogate l'ulivo i kiwi la parte apicale deve essere molto lunga sì quindi il pane di terra quello con le radici deve andare molto in profondità e poi c'è anche la conca dove il terreno viene raccolto durante le sporadiche irrigazioni bene a fianco a questa pianta si mette un tubo di plastica verticale del diametro di 4 5 anche 10 cm quello che si trova a portata di mano si interra un tubo che arriva fino giù quando si innaffia o con la pompa o con una bottiglia o con un secchio si cala l'acqua all'interno di questo tubo e praticamente la pianta è come se la facessi bere con l'imbuto e l'acqua va solo in profondità sopra rimane sempre asciutto quindi niente vapore e traspirazione zero riempi questo tubo il terreno già di per sé è molto sabbioso quindi molto poroso assorbe tutto e mantiene l'umidità giù veramente riesce a far crescere una pianta con una bottiglia d'acqua a settimana meno di così ancora non so cosa può essere e anche con gli ortaggi si può provare una cosa del genere diventa solo un po' più complesso perché sono più piantine e sono più vicine ma per il nostro piccolo orto familiare si può provare e va bene bagnare benissimo mi fa piacere che qualcuno l'ha sperimentato bagnare solo sotto dove serve tra l'altro evita pure la crescita di erbe concorrenti c'è un'esperienza si dimmi ad esempio l'ho fatto proprio quest'anno per le zucchine e i cocomeri praticamente tagliavo il collo della bottiglia di plastica interravo il collo della bottiglia al contrario ovviamente riempivo il collo della bottiglia di acqua e poi la lasciavo che man mano andava giù si perfetto poteva stare anche un'ora due ore così dipende dalle condizioni del terreno certo e la superficie rimane asciutta perfetto ottimo terreno argilloso come questo si si questi sono i piccoli esperimenti che veramente rivoluzionano la nostra vita con le piante perché con un piccolo intervento risolvi un grosso problema adesso c'è la subirrigazione il professor si la subirrigazione perché se no uno magari dice no 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 vai a fare tutte le piante nel senso c'è un'ala gocciolante che lo fai una volta il lavoro cioè scavi lo lasci giù l'avevo detto ce ne aveva prima a proposito delle trame no perché se no sono interessanti però poi qualcuno che ha da produrre qualcosa in più c'è anche un altro sistema che converrebbe sperimentare in climi aridi e lo vedremo un po' più avanti ah scusa la pressione dell'acqua provvede ad aprire i fori ogni volta eh diciamo che deve essere eh sì allora se si tratta di piante orticole prego non non c'è un grosso problema perché le radici sono piccine poi al limite con dando un po' di acqua in più marciscono a fine ciclo il problema nasce la subirrigazione con le con gli arbusti perché tende tendono le radici da piccole ad entrare a avvicinarsi a quei forellini oppure a strozzare a strozzare poi ci sono alcune aziende che hanno creato dei delle manichette che evitano questo entrare o addirittura ci sono degli impregnanti eh a base di 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 sostanza che non li fanno avvicinare però diciamo non è il nostro caso ce ne sono alcuni che con alcune tecniche di 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 filamenti evitano che arrivino proprio al buco però è interessante di solito noi in agromicoltura o in frutticoltura utilizziamo questa cosa all'inizio quando piantiamo le piantine quindi facciamo uno scavo mettiamo la subirrigazione e poi ci piantiamo le piante a 4-5 metri quando la perché nei primi anni di vita la pianta ha bisogno di andare giù le radici e di irrigarla molto vicino dopo lo abbandoniamo quel tubo lì perché non ha neanche un costo esagerato e ne mettiamo due laterali che una volta che si sono create le radici portanti quelle strutturali della pianta e quelle più recettive sono i capillari che si iniziano a stendere di pari passo come va la chioma e quindi poi spostiamo l'impianto anche a subirrigazione o da o semplicemente da sopra che è facilmente asportabile ai lati ai bordi va bene ho tutto ottimo quel che viene da queste osservazioni perché contribuisce ad ampliare le nostre conoscenze e a risparmiarci un sacco di problemi già facilmente risolvibili parlavamo delle emissioni al di là di tutte le divagazioni di tutte le parentesi che si aprono continuamente perché è bello che sia così perché la natura è fatta proprio come i nostri discorsi si passa sempre da una cosa all'altra a proposito delle emissioni ci sono le api e qualcuno mi diceva che si sta cimentando a esperienze anche io ho avuto le api e adesso non ce le ho soltanto perché non riesco più a curarle per tutte le malattie che ne conseguono però è un'immissione di animali in natura che dà un grosso contributo quello dell'impollinazione la conosciamo benissimo fin dalle scuole elementari e il prodotto che se ne ricava attenzione fatto con un po' di criterio con un po' di accortezza può integrare il reddito il miele ha un certo valore non viene pagato 20 centesimi al chilo ha un valore superiore l'Italia è un'importatrice di miele dall'estero e arriva miele da tutto il mondo di condizioni più disparate e non si sa neanche cosa e dove combinano quelle api le nostre api sono molto delicate purtroppo per le malattie che sono arrivate non so in quale modo se sono arrivate per condizioni naturali o immesse o quant'altro si ammalano queste api e muoiono continuamente la produzione di miele in Italia è più bassa del fabbisogno nazionale ogni tanto delle regioni qualche ente quando si ricorda danno pure dei finanziamenti per comprare delle arni o degli sciami quindi drizzate un bel oreccio che magari se ne può cogliere l'occasione piccoli finanziamenti 200-300 anche 1000 euro per comprare un po' di attrezzatura può essere integrazione al reddito perché il miele ha un costo per la quale ne vale la pena tentare ti porta del tempo sempre il nostro solito fattore limitante ci vuole del tempo da curare le api attenzione con tutti i problemi che ne conseguono ma se riesci integri il reddito e addirittura può essere anche la principale fonte di reddito chi fa apicoltura insomma lo fa in modo serio pratico e riesce a vivere però come tutti i sistemi anche là ci sono le scorciatoie le scappatoie e le truffe a cui io preferisco stare alla larga perché non è bello insomma truffare su un prodotto che spesso viene rifilato ai bambini truffe mi riferisco a mettere sostanze chimiche alle api velenosissime che poi avvelenino anche il miele non muoiono le api fai tanto miele ma fai porcheria è meglio condenarsi di qualche situazione io vorrei provare con una situazione intermedia del tipo tenere una famiglia di api solo per la riproduzione che mi facciano dei figli e metterci un po' di tutto per farle sopravvivere perché il problema è farle sopravvivere uno, due, tre anni e muoiono ogni famiglia ogni famiglia di api se sopravvive in media ti fa da due a tre sciamate ogni sciamata sarebbe un nuovo nucleo di api che ne puoi mettere che lo puoi mettere in una cassetta e fare in un'altra famiglia e quindi un nucleo da curare medicare senza troppe schifezze senza esagerare con la chimica ma garantirgli la sopravvivenza e non prendere miele perché è trattato e poi un altro nucleo quattro, cinque arnie due quelle che vuoi con un sistema naturale dove si mette lo sciame si lascia produrre miele quando vedi che sta per morire si prende il miele e si lascia andare via così è un processo più naturale più vicino alla natura se la natura ha messo in mezzo ste cavole di varroa e malattie di tutte le parti che la varroa tra l'altro è un insetto e medicare un insetto che è parassitato da un insetto è un casino è facile mettere un insetticida al cane cane, mammifero insetto insetticida insetta più insetticido uguale cane senza parassiti mammifero è diverso da insetto ma l'ape è un insetto e la varroa è un insetto è un insetticido che uccide un insetto sì e un altro no è un bel problema infatti solo da spiegare grazie infatti solo da spiegare è una fatica però ci sono tante sostanze che fanno prevenzione più che altro con le api bisogna fare prevenzione non bisogna aspettare che sia la colonia tutta invasa dimmi ma nel vasetto mi sembra un po' strana come cosa perché un vasetto è troppo piccolo per un nucleo di api ah sì ci sono delle api tipo bombi che vanno a costruire le tane all'interno del vasetto ma quelle l'hanno fatto solo al di là del miele che c'era o meno la costruzione di quel nido è avvenuto solo perché il vasetto era una struttura asciutta idonea alla costruzione del nido era al di là è stata una cosa casuale sì perché è troppo piccolo il vasetto come nucleo poi è trasparente le api hanno bisogno di nuclei significa 50-60 centimetri di superficie a disposizione e soprattutto al buio la loro tana è al buio e l'entrata deve essere rivolta dove non c'è vento battente dove non c'è pioggia che si può infilare e possibilmente anche inclinata in modo che se dell'acqua dovesse entrare accidentalmente deve venire fuori insomma non devono correre rischi di allagamenti le api quindi è un animale che si può introdurre e quindi può dare del reddito altro animale di cui avevamo già accennato sono questi famosi polli con le gabbie semoventi è un sistema sperimentale dove in alcuni punti viene utilizzato e funziona costa anche qua della mano d'opera devi fare la gabbia deve essere leggera la devi poter spostare con tutti i polli dentro i polli in quella gabbia e in quell'ambiente razzolano e ripuliscono il terreno dalle nostre erbe infestanti in più con l'acido urico contenuto nelle loro deiezioni sterilizzano è un sistema anche questo guardo qualche amico che insomma non era tanto aveva altre idee diciamo è un sistema un po' estremo perché sterilizzi il terreno però molto meglio sterilizzarlo con quattro polli che col diserbante e dobbiamo pure combattere di fronte a queste realtà che abbiamo se riuscissimo a far crescere le piandine di ortaggi in mezzo a quell'erba saremmo dei grandi filosofi della natura e dei grandi custodi dell'ambiente ma è complicato vi do subito le domande questi polli razzolano ripuliscono e sterilizzano se i polli vengono messi in delle gabbie del genere poi devono essere spostati continuamente perché lì gli alimenti finiscono velocemente e devono essere integrati con della granella che se non la produci la devi andare a comprare una porzione di alimentazione dei polli può essere integrati con la nostra famosa frutta di scarto e quindi non vai a comprare tanta roba e vai là su qualche percentuale che può essere più vandaggiosa razzolano la puliscono e se un pollaio viene fatto in forma stanziale cioè se hai un pollaio con diciamo una superficie come questa stanza con dieci polli li tieni là un anno si dovrà integrare con la granella perché avranno ripulito tutto dai lombrichi agli insetti volatori tutto ciò che passa all'altezza di un pollo viene beccato però hai un terreno ottimo preparato per l'orticoltura successiva se i polli dopo qualche tempo li sposti sposti solo loro senza la recinzione perché costa troppo e all'interno puoi entrare con un trattorino con un sistema per smuovere il terreno o anche senza smuovere puoi piantare le tue ortive senza avere bisogno di diserbare per due anni non crescerà nessuna erbaccia arriveranno dopo due anni quando il vento avrà cominciato a spingere sementi all'interno e cominceranno a essere competitive con i tuoi ortaggi per le ortive ottimo sì sì le loro deiezioni finite nel terreno vengono subito trasformate non si ha accumulo di letame anche perché questi attimali dicevo prima nei giorni precedenti se non c'erano i polli bisognava inventarli perché loro stessi fanno le deiezioni e poi razzolano quindi mischiano rimescolano dove ci sono i polli non riescono a far accumulare compost per quanto è veloce il loro ciclo di rimescolamento scavano una continuazione e rimescolano ecco perché sì stanno sempre a rovistare il terreno rimane quasi sempre quando è asciutto il terreno è polveroso polveroso in superficie quindi comunque polveroso rimescolato e sotto rimane fresco però non è arido quando è bagnato è un po' un problema perché vengono fuori degli odori insomma non proprio come sianelle e quindi i soldi vicini dal naso fino potrebbero lamentarsi perché quando è bagnato diventa un pasticcio un po' bruttino da praticare ok mi dicono che dovrebbe essere a pranzo solo grazie solo le domande sì più o meno hai già risposto però volevo capire già hai detto che le deiezioni più o meno sterilizzano il suolo lì sotto però allo stesso tempo la pollina è un gran fertilizzante volevo chiedere diciamo quando è che da buon fertilizzante diventa un problema per la crescita delle piante ah sì bravo grazie della precisazione se i polli restano lì troppo tempo e ci sono degli alberi da frutta e gli alberi da frutta vanno incontro al problema precedente dell'etame possono essere intossicati avvelenati possono seccare anche se sono alberi grandi addirittura con gli allevamenti di polli diciamo 30, 40, 50 polli sotto una piccola quercia fanno seccare pure la quercia dopo un po' di tempo dieci pecore tenute a dormire sotto una quercia di un metro di diametro la fanno seccare nel giro di 5-6 anni perché l'eccessivo quantità di letame di acidurico che si accumula là sotto può distruggere anche un albero secolare l'altra domanda lì e quale può essere la rotazione che non va a intossicare un albero cioè se sotto un albero un anno sì e un anno no si fa con i polli se si tengono i polli conviene tenerli alcuni mesi non un anno alcuni mesi del tipo per esempio l'ideale sarebbe mettere i polli sotto il nostro frutteto sotto gli alberi a marzo quando cominciano ad uscire le piante selvatiche e cominciano a invadere tutto tenerli marzo aprile e maggio e poi spostarli perché in estate le piante saranno quasi tutte secche e dovremmo solo dargli del grano da mangiare quindi nel periodo clou dell'esplosione vegetativo sia per nutrire i polli e sia per contenere le piante erbacee due mesi tre mesi a seconda del numero di polli a seconda della superficie che mette a disposizione bravi si vede visivamente che qualche pianticella continua a nascere mentre loro razzono quando a un certo punto stanno lì da molto tempo non nasce più niente quindi secondo me l'idea sarebbe anche per chi non piace quella storia lì che sembra che stiano ad Alcatraz fare delle gambe più grandi magari leggere addirittura spostarle anche settimanalmente nel proprio appezzamento una cosa utile per chi ha il problema come me che ci sono le volpi i cinghiali questa roba qua di farla da parte superiore con le maglie più strette e la parte inferiore a maglie più grandi che quindi non c'è bisogno di stare attenti a questa cosa perché se questa ha una forma quadrata e si può tranquillamente spostare con delle maglie grandi spostandola senza uscire diciamo tra virgolette le galline riesce a far entrare anche l'erba che già sta la graminacea o quant'altro quindi se ha maglie strette rimane schiacciata l'erba magari la gallina non riesce a beccarla a ripurire a nutrirsi a maglie larghe riesce a farlo però non arriverà la prima volta il primo cane a scavare sotto ed entrare perché comunque ci sono delle maglie abbastanza grandi bisogna trovare il compromesso tra dimensione delle maglie e dimensione del predatore senz'altro ok di un po' 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 Grazie a tutti